Una Chiesa pioniera, grazie ai tanti missionari ai quali ispirarsi per un rinnovato annuncio del Vangelo. Così Papa Francesco descrive la Chiesa del Gabon nel messaggio consegnato ai Vescovi in visita ad Limina. Centrale la raccomandazione ad alzare la voce per difendere la persona umana e la sacralità della vita, soprattutto guardando al prossimo Sinodo dei Vescovi. Una sfida da affrontare nell'ambito educativo con le istituzioni cattoliche che portano avanti la promozione dell'uomo con un'opzione preferenziale per i più poveri. Le pensieri del Papa anche ai giovani perché vedano in Cristo un amico e una guida in modo da resistere alle ideologie, alle sette e alle illusioni della falsa modernità, al miraggio di ricchezze materiali. Un particolare riferimento poi alla vita e alla missione dei sacerdoti invitati alla comunione e alla fratellanza. Nell'anno della vita consacrata Francesco invita a un dialogo costruttivo tra le religiose e le religiose del paese come pure con i fedeli laici impegnati nella vita delle comunità locali perché la Chiesa è missionaria per natura. Grazie a tutti.